ciao a tutti ragazzi sono di nuovo io andrea gs bentornati finalmente in questo nuovissimo video ragazzi oggi vi voglio un po raccontare cosa è successo al mio honda ottobiano dato che sicuramente l'avrete già visto nel video e appunto sono qua per approfondire però in maniera un po diversa appunto facendo un video su delle foto appunto andando via a raccontare l'accaduto non perdiamo altro tempo se non avete ancora visto l'altro video mi raccomando chiudete questo andatevelo a vedere e poi ne riparliamo così almeno capite un attimo di cosa sto parlando andiamo un attimo sul computer a dare un'occhiata al disastro che ne è venuto fuori allora spostandoci sul computer troviamo già la prima foto molto interessante direi allora la moto era già stata smontata chiaramente serbatoio fianchetti radiatori la bobina di accensione non c'è più niente c'era solo più l'iniettore è stato tolto via dal motore il coperchio valvole allora subito qua la situazione era abbastanza critica come si fa zoomare ok perfetto come potete vedere qua in questa zona qua e qua soprattutto sul sulla vite ci sono già dei residui di bronzina tritata se così possiamo dire ecco e quindi qua già ci ha fatto pensare andiamo avanti con le foto ok aveva preso lo zoom perfetto andiamo avanti si vabbè qua si può si può notare appunto meglio guardate qua chiaramente andando a zoomare la qualità viene persa però possiamo comunque apprezzare il danno vabbè qua delle foto durante lo smontaggio appunto qua si vede un po' meglio la moto come era conciata qua si vede già qua sotto vi faccio vedere la pedalina come l'ho conciata dopo essere andato per terra qua sono i danni appunto della caduta proviamo ad andare avanti ok allora ce la posso fare un paramani se possiamo dire ormai boh non so bruciato si questa qua è tutta plastica bruciata appunto dallo scivolone infinito che non so boh non finiva più di scivolare sta moto boh paramani piegato però comunque leva della pompa radiale 1618 brembo è tutto a posto nessun danno chiaramente il paramani sono andato a direzzarlo e via qua possiamo apprezzare meglio la pedalina ragazzi cioè sono danni che si fanno pace la pedalina si cambia meglio la pedalina che un braccio mio perno della ruota dietro leggermente leggermente graffiato ho già trovato una soluzione sapete qual è inutile che sto qua a parlarvene magari ci farò poi sopra un video e qua qua ragazzi cominciava a venire fuori diciamo il danno questa foto qua non dice più di tanto comunque è stata tolta la testa e stavamo per togliere via il cilindro primi segni che si vedono dal cilindro quando poi in realtà per fortuna erano solamente questi segni qua non non importanti perché con una lucidatura sono andati via il pistone ragazzi non mi ricordo più se è lato aspirazione o scarico ma direi lato aspirazione sì dovrebbe essere lato aspirazione è racconciato in questa maniera qua è insomma una bella grippatina però il pistone non era consumato anche perché era da pochissimo che l'avevo cambiato guardate qua si intravedeva ancora la graffite benissimo comunque qua è una grippatina abbastanza importante non ha riportato segni sul cilindro molto strano però probabilmente è stata la dilatazione termica sulla grippata possiamo vedere della sporcizia di appunto anche qua sempre polvere di bronzina che finisce ovunque probabilmente è stata questa a generare il danno andiamo avanti guardate qua la biella ragazzi e l'albero motore come erano conciati allora prima di tutto prima di andare a vedere la biella che chiaramente avete già visto i segni importanti fate caso al carter in questa zona qua come è tutto puntinato idem per il pistone probabilmente andando avanti con le foto si vedrà anche meglio il pistone ok come potete vedere il pistone qua era veramente non so smartellato dai potrebbe andare bene come termine da questa foto qua messa un po' più a fuoco si capisce meglio in poche parole ragazzi cosa è successo è saltata via una delle bronzine che tengono diciamo chiuse la biella tra questa parte della biella e questa ci sono delle bronzine qua se ne intravede una in poche parole è saltata una di queste bronzine e si è sbriciolata in tutti i pezzi del genere se non più grossi e più piccoli ed è andata a finire appunto in giro per il motore qua troviamo un ugello dell'olio di lubrificazione appunto quello che lubrifica pistone e cilindro per fortuna si vabbè è un po' bozzato però chiaramente le varie guide dell'olio getti sono stati lavati tutti puliti accuratamente però l'ugello non ha riportato danni per fortuna queste qua sono le condizioni appunto interne del motore insomma è stato fatto un bel danno questa qua è la grippata del pistone lato scarico non c'è nient'altro da dire guardate qua qua possiamo anche notare altri pezzi di bronzo che sono rimasti appunto attaccati andiamo avanti con le foto altra foto dove si può ammirare meglio la grippata del pistone appunto qua era stata già rimosso dalla biella e ragazzi qua vi faccio capire un attimo cosa è successo bene dentro il motore e dentro l'olio allora questo qua è il carter lato sinistro dove è montato lo statore qua come potete vedere questo qua è il tappo dell'olio quello che quando mettete dentro appunto vedete il livello dell'olio e notate bene questi qua sono tutti pezzi ragazzi della bronzina che si è frantumata ce ne erano veramente ovunque chiaramente questi qua sono solamente i più grossi ma il più grosso è stato appunto fermato ah chiaramente questa qua ragazzi è tutta polvere questo qua penso che sia il controalbero comunque guardate qua tutta polvere è appiccicata ovunque il più grosso come vi dicevo è stato fermato appunto dal prefiltro e dal filtro dell'olio però il più fine purtroppo è non passato nell'olio perché comunque il filtro ha fatto del suo lavoro però è stato nebulizzato appunto dentro il motore ed è finito ovunque questo qua era appunto il pezzo più grosso che abbiamo trovato dentro il motore e comunque guardate anche sotto il prefiltro tutta la porcheria che è passata purtroppo non ho fatto una foto al filtro vero e proprio dell'olio ma era messo veramente veramente male qua si può ammirare appunto la gabbia rulli della biella che di conseguenza è saltata e probabilmente poteva fare più danno e ragazzi questo qua era appunto il danno che ho fatto alla fine è stato chiaramente riparato in officina senza nessun problema questa qua è la foto appunto del blocco aperto e ce la siamo cavata sostituendo chiaramente la pompa dell'olio che oramai era inchiodata cuscinetti di banco paraoli ho preferito sostituire l'ingranaggio della quarta perché ogni tanto tendeva a sfollare durante la cambiata poi è stato rimbiellato appunto l'albero motore originale con una nuova biella è stato sostituito il pistone abbiamo lucidato il cilindro sostituita la catena della distribuzione per sicurezza e un altro problema che pensavamo ci fosse era quello di andare a sistemare la testa perché questa polvere qua pensavamo che avrebbe danneggiato qualcosa i cuscinetti sono a posto la catena appunto l'abbiamo cambiata per sicurezza anche se era ancora buona poi abbiamo controllato il gioco valvole la tenuta delle valvole i gommini ed era tutto a posto allora adesso discutiamo un attimo assieme del perché è avvenuta questa grippata questa grippata qua ragazzi posso garantirvi che ci stava sicuramente era aspettata però non comunque durante questo periodo allora la moto quando l'ho comprata aveva più o meno 150-160 ore prendiamo i dati con le pinze perché la moto non aveva nessun conta ore nessun conta chilometri installato che ne certificasse appunto l'utilizzo avvenuto quindi ho fatto una stima chiedendo al proprietario e chiedendo soprattutto al proprietario precedente delle ore che potesse avere la moto e più o meno è sembrato che avesse 150-160 ore la biella speravo durasse fino alle 200 così da poterla utilizzare nella stagione estiva e poi successivamente quest'inverno fare il motore purtroppo ci ha abbandonato un po' prima però comunque era un lavoro che prima o poi era da fare quindi ragazzi adesso abbiamo fatto il blocco nuovo pensiamo a scannarci di nuovo e a divertirci e speriamo anche di parlare un po' di meno di questi danni ragazzi io vi ringrazio per l'attenzione mi raccomando supportatemi iscrivendovi al canale mettete un bel mi piace che è sempre ben gradito fatemi sapere appunto che questi contenuti vi attirano e ragazzi seguitemi anche sui social su facebook e instagram importantissimo iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video un grande saluto ciao a tutti e e e e e Grazie.